Massimiliano Fedriga, la Lega Nord è arrabbiata perché PD e PDL hanno promesso 700 euro a tutti gli ex detenuti. Viene garantito per gli ex detenuti ed anche per i detenuti 700 euro di incentivo per le imprese che li assumono. Stiamo in considerazione che nel decreto lavoro ai giovani disoccupati, onesti, che non hanno commesso il correato, quindi data 650 euro ci sembra un'ingiustizia palese. Oltretutto un detenuto di 40 anni che finisce la sua pena avrà garantito o perlomeno incentivato il posto di lavoro, a differenza per esempio delle quarantenne che ha perso il posto di lavoro nella piccola impresa che ha abbandonato a se stesso. Riteniamo una misura ingiusta che premia coloro che si sono comportati male, che hanno commesso dei reati, a differenza delle persone che invece hanno cercato di condurre una vita onesta e si sono trovati nella condizione di avere la crisi in maniera drammatica. Su questo faremo una forte battaglia perché riteniamo inaccettabile che il Partito Democratico, PDL ed anche purtroppo il Movimento 5 Stelle appoggino questo tipo di tesi che ci sembra dalla parte di Caino e che dimentica totalmente a Belle.